Che la faccia? Barbara, si prende? Eh? Il prum! Il panone, veloce! Ti nervosisce poi? La! Questi sono tre belle cani, molto belle che possono fare un'ora la cassa alla razza l'opera La migliore cani per me che vince il titolo è la numero 564 perché oltre a essere una bellissima cani è una cani che si è qualificata cantando del mondo del Superman Per me il winner è il numero 564 perché è un'ora molto più qualificata per l'IDP World Championship Sera 323